Dopo la prima vittoria in campionato ottenuta nel precedente turno, è arrivata la prima sconfitta casalinga della Vispesaro. È terminata sul punteggio di 0-2 la sfida andata in scena sabato tra Biancorossi e Pistoiese, che ha visto gli ospiti, allenati dall'ex tecnico pesarese Sassarini, imporsi allo stadio Benelli con i sigili di Sottini e Pinzauti. Un avvio senza precedenti, quello della squadra di Mr. Banchini, che con la rete presa al quarto del primo tempo, ha incassato fin qui nei primi minuti di gioco 4 gol in 5 partite. Troppi per una squadra che vuole ambire ad una salvezza tranquilla. Come troppe, sono le 10 reti subite dalla difesa, la peggiore del girone dietro solo alla Viterbese con 11, squadra che la Vis affronterà proprio domani nel primo turno infrasettimanale. Il rigore sbagliato sabato da Cannavò, quando il punteggio era ancora sull'1-0 per la Pistoiese, non è l'unico rammarico del tecnico Biancorosso, che al termine del match si è assunto le proprie responsabilità. La squadra ha perso, la colpa è mia. Bisogna lasciare tranquilla la squadra e bisogna pensare di farci lavorare. Il gol preso ha freddo un'altra volta, adesso comincia a diventare, sì, una situazione non solo più tecnico-tattica, ma probabilmente è talmente facile prevederlo, no, perché basta dire, mi raccomando, all'inizio della partita stiamo attenti e se ricapita ancora non va bene. Io ho detto che le partite, si capisce l'importanza delle partite solo dopo averle giocate, perché sapevo che questa era una partita che poteva andare a finire così. Infatti la Pistoiese ci ha battuto con le nostre stesse armi, hanno avuto più voglia di noi, sono stati più cattivi e a livello agonistico abbiamo perso la partita. Poi loro hanno determinate caratteristiche, hanno caratteristiche che secondo me nel 3 contro 3 dietro soffrono particolarmente, io ho messo 3 attaccanti centrali e quindi siamo andati subito a cercare queste verticalizzazioni e a cercare di rubare palla e l'abbiamo fatto bene. Partita con pochi precedenti, quella giocata tra Castelnuovo, Vomano e Alma Juventus Fano, che al 14esimo del primo tempo sul punteggio di 0-0 è stata interrotta per un infortunio al polpaccio del direttore di gara. Nonostante le cure dei massaggiatori e dello staff delle due squadre, l'arbitro Fantozzi ha dato forfè, fischiando anzitempo la fine del match e rinviando i prossimi giorni la decisione sulla data del recupero. Per quanto riguarda il basket, la Carpegna Prosciutto debutta in campionato con una sconfitta beffarda, uscendo dal campo di Sassari col punteggio di 75-73. Una buona reazione quella avuta dai ragazzi di coach Petrovic dopo la pessima prova in Supercoppa, riuscendo per gran parte della partita a rimanere in vantaggio. Ottime le prestazioni da parte di V. Sanford che ha chiuso con 22 punti e di Tricky Jones con 16. Rimane però il rammarico per la tripla mancata proprio da Sanford sulla sirena finale, che ha di fatto negato la prima gioia e i primi due punti alla VL. Per quanto riguarda la palla ovale, sabato è scesa nuovamente in campo dopo tanto tempo, la Fiorini Rugby Pesaro, con la squadra dell'Under-19 della Serie A impegnata in due amichevoli altotti patrignani. Ad aprire la giornata è stata la formazione giovanile di Pesaro, che ha battuto il Perugia per 24-12. Sconfitta invece per la prima squadra, che si è dovuta arrendere al Cavalieri Prato per 7-19.